Ci sono dei giorni in cui uno guarda la propria vita, fa un po' di bilanci, le persone incontrate, le situazioni e ricorda situazioni belle, situazioni brutte. Paolo Dall'Oglio dieci anni fa, alla fine di luglio, è stato rapito in Siria, non abbiamo notizie, ma pensa alla Palestina, all'Iraq, agli amici che conosciamo, all'Ucraina, per esempio, dove sono cadute le bombe a Odessa ancora in questi giorni, dove ero stato agli inizi di aprile. E pensa al Vertice FAO, dove si parla della fame nel mondo. Meloni, Presidente del Consiglio, dice che ognuno dovrebbe poter vivere degnamente nel proprio paese, ma se noi continuiamo a vendere armi e a portare via le materie prime, i poveri diventeranno sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. E anche da noi vediamo che la fame aumenta tra gli italiani e gli stranieri. Allora dobbiamo scegliere da che parte stare. Tra l'altro mi piace anche ricordare il Cardinale Re che è andato in pellegrinaggio sull'Adamello insieme agli Alpini l'altro giorno e ha detto che bisogna investire meno in armi e più in sanità e istruzione. Ricordo anche quello che diceva il nostro omeniese Gianni Rodari, ce ne sarà per tutti un giorno o l'altro quando si faranno le torte al posto delle bombe. Io vi lascio con un saluto dell'amico Bettazzi, Don Luigi, il vescovo morto la settimana scorsa, era qui a Verbagna l'anno scorso. Lascio 30 secondi a lui per farvi gli auguri di pace. Noi ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Io faccio gli auguri di buona pace perché la pace nel mondo nasce se ciascuno è in pace con se stesso, è in pace con i propri vicini e cerca di portare la pace contro la tendenza a chiudersi nell'io, la pace è aprirsi agli altri soprattutto chi si trova più in difficoltà. Auguri, siate operatori di pace. Grazie.